I ragazzi vogliono festeggiare e oggi festeggiano un anno di attività e questa attività sicuramente è qualcosa di particolare perché nonostante non ci fosse a Crutone grande movimento loro si sono mossi e oggi sono contenti di avere anche attorno un partito che si è ricostruito, è stato ricostruito. Allora tu con Forza Italia che tipo di rapporto hai? Il mio rapporto con Forza Italia diciamo che nasce da poco tempo, nel momento in cui il gruppo che in qualche modo ha seguito durante la presente campagna elettorale, ha deciso di affrontare questa sfida politica dapprima a livello comunale ma poi ci siamo resi conto che il nostro apporto non poteva prescindere dall'essere in qualche modo collegati con un partito di rilevo nazionale che comunque potesse contare in qualche modo su un appoggio anche a livello regionale. Quindi è stata una maturazione di un processo rispetto al quale abbiamo deciso di aderire a Forza Italia che in questo momento almeno per chi non si rivede nel contenitore politico del PD e di tutte le sue varie correnti oppure a livello locale non ha in qualche modo nessun legame con altri contesti politici diciamo che Forza Italia è quella che più ha rappresentato per noi un punto d'arrivo, un punto di riferimento per quanto riguarda sia i principi e per quanto riguarda i valori. Oggi siamo qui e festeggiamo e siamo contenti di festeggiare i ragazzi del Movimento Giovanile. Io nelle mie passate esperienze sono stato un promotore, quindi un attivista in prima persona di un movimento giovanile e riconosco quale sia e quale possa essere il valore di un movimento giovanile. I movimenti giovanili crescono sotto la protezione allegita dei partiti strutturati o meglio quei partiti che comunque hanno l'idea di volere in qualche modo sopravvivere agli uomini che in un determinato momento storico li rappresenta. Il Movimento Giovanile rappresenta proprio l'investimento che il partito fa sulle nuove generazioni perché poi naturalmente questi nuovi dirigenti, giovani dirigenti, saranno quelli che poi si occuperanno e prenderanno il posto di quelli che oggi gli stanno davanti. Quindi questa classe politica potrà essere la classe politica del futuro? Sicuramente concorrerà ad essere una classe politica con l'obiettivo di diventare anche la classe dirigente. Naturalmente non siamo gli unici e non saremo gli unici con questi obiettivi. Noi cercheremo sicuramente di fare il nostro meglio e qualsiasi cosa e qualsiasi attività potremo in essere, terremo sempre in considerazione il valore e la freschezza del Movimento Giovanile che non può altro che essere comunque un momento di grande fertilità, di grande discussione culturale e di grande confronto oggi per il prossimo futuro. Onorevole Magno, oggi è festa qui a Crotone per i giovani di Forza Italia un anno di attività politica, particolarmente in un momento in cui di politica soprattutto in Forza Italia a Crotone se ne parlava poco. Sì, penso che questi ragazzi hanno intanto fatto un percorso molto produttivo dal punto di vista di quelle che sono state le iniziative sul territorio sia nel campo sociale ma anche nel campo politico che poi è il campo principale dei ragazzi di Forza Italia. Ritengo che con questa iniziativa di oggi fanno intanto il punto della situazione di quello che è stato in più c'è un momento in cui il partito si è riorganizzato su Crotone attraverso l'elezione al segretario di Sergio Torromino intorno a Sergio si sta costruendo e rafforzando questo gruppo di ragazzi che hanno in mente di portare un programma di rilancio del partito ma nello stesso tempo di guardare con attenzione a quelli che sono i problemi della città di Crotone per costruire una nuova classe dirigente che consenta a questa città di poter entrare in maniera piena in quelli che sono i rapporti nel contesto provinciale e regionale. Cambio argomento e dico, il centrodestra unito vince, è questo il messaggio che sta passando? Lei ci crede? Ma dipende tutto dalla legge elettorale che viene approvata intanto è importante che nel centrodestra si sia aperto un dibattito e un dialogo costruttivo se passa la legge elettorale che è stata proposta dalla Commissione Affari Costituzionali alla Camera dei Deputati ritengo che c'è un percorso che guarda fortemente alla forza all'unità dei partiti. È chiaro che in questo contesto di legge elettorale Forza Italia si presenterà da sola come si presenterà da sola la Lega, il PD e 5 Stelle. Poi ci sono i cosiddetti partiti minori che dovranno vedere di aggregarsi per poter raggiungere l'oltre parlamento del 5%. In questo Forza Italia e Berlusconi è stato trainante perché diciamo che Berlusconi è stato quello che ha messo insieme una legge elettorale che consente di poter far governare i partiti che sono più rappresentativi a livello nazionale per non disperdere quella che è la presenza in Parlamento e nello stesso tempo dopo l'elezione poi si vedrà chi vincerà, quanti deputati si porteranno alla Camera e al Senato e da lì usciranno poi anche le alleanze e quindi il futuro presente del Consiglio dei Ministri. Parliamo un attimo anche della Regione Calabria. C'è un po' di crisi e tante iniziative perché sembra una Regione completamente ferma. La Regione dopo due anni e mezzo è completamente ferma perché purtroppo la politica che ha portato avanti il Presidente Oliverio non è stata una politica che ha creato le condizioni per poter utilizzare in tanti fondi comunitari. Solo adesso comincia a partire qualche bando ma finora non sono mai usciti i bandi che potessero utilizzare i fondi. 2014-2020, quindi sono bandi che dovevano già uscire da diverso tempo, siamo in enorme ritardo. Inoltre non sono stati affrontati quelli che sono i problemi più impellenti in questa Regione che sono le questioni delle infrastrutture, le questioni aeroportuali, la problematica legata al turismo e quindi vedremo quest'anno che la Regione Calabria è stata indicata comune delle Regioni favorita dal punto di vista della presenza turistica, qual è stata l'organizzazione che ha messo in campo anche la Regione per favorire questo processo. Inoltre ci sono questioni legate fortemente alla crisi del settore agricolo, tra qualche giorno ci sarà una grande manifestazione regionale organizzata da Coldiretti contro la politica del governo Oliverio in agricoltura e ci sono tante di quelle contraddizioni, tanti di quei problemi che hanno di fatto certificato il fallimento di questa giunta regionale e del Presidente Oliverio che ha voluto circondarsi anche di tecnici lasciando fuori la politica anche da quella che è la gestione dei fatti amministrativi della Regione. Questi poi sono errori che si pagheranno dopo nel momento in cui il consenso non potrà arrivare se continua questo tipo di politica che ritengo è dannosa per la Calabria ma è dannosa fortemente per il PD. Sergio è un anno di attività dei giovani di Forza Italia e hanno voluto questa iniziativa era 2017 proprio per sottolineare che i giovani vogliono fare politica e vogliono farli in maniera molto evidente. Sì è veramente notevole come in questo territorio veramente disastrato, sappiamo tutte le condizioni ci sia questo gruppo di giovani definirei fantastici che hanno veramente a cuore le sorti del territorio nonostante la gente oggi e i giovani della loro età sono interessati ad altre cose loro continuano con enorme sacrificio e si dividono tra studio e varie attività anche per seguire quella politica che oggi serve sul territorio, che è quella politica sana che servirebbe sul territorio. Bisogna dire che in realtà abbiamo bisogno di questi giovani a Crotone perché se loro giocano la scommessa del futuro vuol dire che questa città si può riprendere. È quello che io continuo a sostenere da diverso tempo, c'è bisogno di fare politica, di farlo a certi livelli, di essere pronti culturalmente ad affrontare il futuro in modo diverso perché oggi Crotone è stata nel corso degli anni denigrata da tutto e soprattutto dai politici che li hanno preceduti e che stanno precedendo questi giovani. Quindi spero che la loro intenzione, e la vedo tutta sinceramente, è quella di fare una politica sana nel territorio. Sai della situazione dei lavoratori di Xeacros e di uno dei dipendenti che è stato ricoverato in medicina d'urgenza? Sì, purtroppo questo del lavoro, io approfitto innanzitutto per fare gli auguri di una pronta guarigione che sinceramente ha addolorato un po' tutti perché andare a finire in ospedale per una protesta per ottenere un posto di lavoro, questa è una cosa gravissima che non dovrebbe esistere soprattutto nel 2017, è una città come Crotone. Mi dispiace tantissimo, purtroppo queste sono tutte cose che ci riportiamo dalle fallimentari vecchie amministrazioni che hanno creato queste società così giusto per crearle. Bisognerebbe ragionare in modo diverso, un ragionamento un po' ampio, adesso forse non è il caso. Comunque rinnovo gli auguri al Signore. Maria, diciamo che Crotone vuole in qualche modo raggiungere anche quelli che sono i dati in Calabria dei giovani protagonisti di una sana politica. Sì, certamente l'iniziativa di oggi è in questa direzione, c'è un costituendo gruppo giovanile ormai da più di un anno, naturalmente i ragazzi hanno tanta voglia di fare come in tutte le altre parti d'Italia, vanno maggiormente incoraggiati perché la Calabria, come sappiamo e lo dico da calabrese, è una terra bellissima ma altrettanto complessa e naturalmente i giovani che si affacciano alla politica e che intraprendono un percorso politico, senza altro vanno assolutamente incoraggiati perché c'è bisogno di tutti. Io lo chiedo solo a te, che tipo di messaggio possiamo lanciare ai giovani? Un messaggio di positività, un messaggio che comunque sia quello di una rinascita, di una ripartenza e finalmente anche insomma di una nuova primavera per la Calabria. Tu ci credi in questa primavera? Certo, abbiamo il dovere di crederci, ce lo dice anche il nostro presidente Silvio Berlusconi, dobbiamo essere ottimisti perché le persone pessimiste non hanno mai combinato nulla di buono nella vita. Il centro-destra unito ce la potrà fare anche con le prossime elezioni secondo te nazionali? Il centro-destra unito ce la farà, tutti i sondaggi ci danno avanti però più che affidarci ai sondaggi ci dobbiamo impegnare concretamente, ognuno di noi ha il dovere di farlo perché tornare al governo del paese e governare come abbiamo sempre fatto in modo concreto è un preciso dovere verso tutti i cittadini che sono vessati da tasse, da problemi di ogni genere e naturalmente dobbiamo incidere con un nuovo corso. Luigi, diciamo che i giovani di Forza Italia in Calabria stanno crescendo e questo primo compleanno dei ragazzi di Crotone è sicuramente importante. Sicuramente è importante e lasciatemelo dire anche per me un appuntamento che vivo con un pizzico di emozione essendo stata la provincia di Crotone la prima tappa dopo la mia nomina coordinatore regionale dei giovani di un paio di anni fa. Sicuramente dobbiamo fare un plauso all'operato di questi ragazzi che sul territorio si stanno impegnando nel quotidiano sotto la regia attente e diligente del coordinatore amico romano liotti e dimostriamo quindi sul territorio con iniziative concrete che siamo pronti a scendere al fianco del partito, a fianco della gente e dei calabresi per questa nuova campagna alle politiche. Una Calabria che sta in qualche mondo crescendo dal punto di vista delle adessioni a Forza Italia? Questa è una cosa molto positiva che posso confermare tranquillamente e che spero che continui in questa maniera per poter far sì che la Calabria si ritinga ad azzurro visto ciò che abbiamo assistito con l'Aggiunto Oliverio. Ecco, un'Aggiunto Oliverio, qual è il pensiero dei giovani? Guardi, purtroppo non si può avere un pensiero per un semplice motivo perché è un'Aggiunta totalmente inesistente, non è un'Aggiunta che non fa che in alcuni casi forse è anche peggio di fare male. Quindi tu stai dicendo in realtà che c'è bisogno di cambiare e soprattutto di dare a questa regione finalmente un progetto positivo? Bisogna partire da un progetto, bisogna partire da un progetto che sia serio e concreto, non dobbiamo limitarci semplicemente a un progetto di ricambio generazionale, la politica non significa tutelare una classe dirigente e rinnovarla sulla base dell'età anagrafica, si deve rinnovare con idee giovani e soprattutto con progetti giovani che rilancino la Calabria principalmente dal mio modesto punto di vista, dal punto di vista ambizioso dell'agricoltura e del turismo. La Calabria ce la può fare, ce la dobbiamo fare. Siete tutti in movimento Daniele perché è una giornata bella e soprattutto si festeggia questo primo compleanno dei giovani di Forza Italia di Crotone. Sì, oggi dopo un anno festeggiamo appunto il primo compleanno di Forza Italia Giovani Crotone. Devo dire che per me è un momento di grande gioia e di grande orgoglio perché siamo partiti da un gruppo di circa 4-5 ragazzi con i quali è iniziata questa nostra esperienza del movimento giovanile e ad oggi siamo qui dopo un anno con un gruppo compatto che consta di oltre 15 ragazzi a festeggiare una serie di iniziative che abbiamo svolto sul territorio, siamo stati presenti in mezzo alla gente, abbiamo portato avanti quelli che sono gli ideali e i valori di Forza Italia Giovani, quindi ripeto non posso essere che orgoglioso del risultato raggiunto. Quindi tu puoi anche essere il messaggero con Roma e Milano dell'attività che questi giovani stanno mettendo in campo? Certamente, siamo sempre in contatto, io vivo a Roma, svolgo attività sul territorio romano e quindi posso, diciamo che faccio tramite anche da quello che accade sul territorio con i responsabili nazionali del movimento giovanile. Crotone ha bisogno dei giovani, lo sai? Crotone ha bisogno dei giovani, ha bisogno dei giovani perché io credo che i giovani siano non solo il futuro ma anche il presente perché bisogna lavorare al momento, bisogna lavorare sul presente per costruire il futuro di quello che un giorno sarà la nuova classe dirigente, non solo del partito ma speriamo in senso più ampio. Dobbiamo dire che in realtà la politica è una politica che deve essere attiva costantemente, è una politica che deve essere anche tornare ad essere servizio ai cittadini. Sì, certamente, infatti sottolineavo prima che siamo stati presenti sul territorio, la politica, come ben hai detto, significa stare al servizio dei cittadini, mettersi a disposizione dei cittadini e rappresentare l'idea del cittadino. Romano, dobbiamo dire che questo coordinamento cittadino è sicuramente un coordinamento di giovani che ha voglia di fare e questi giovani sono anche rappresentati da te. Sì, questi giovani sicuramente hanno dimostrato in questo primo anno di coordinamento cittadino di aver fatto tanto. Molte sono le idee che hanno già realizzato e tante altre sono le idee che hanno in cantiere e che presto saranno realizzate e che quindi presto conoscerete tutti quanti. Quindi tu stai dicendo che in realtà si può ripartire dai giovani? Si deve ripartire dai giovani, il futuro della nostra terra e soprattutto del nostro partito, del nostro movimento parte dai giovani. I giovani sono il vero futuro per idee, per emozione, per passione perché comunque i giovani che decidono di avvicinarsi alla politica e che vogliono fare politica attraverso Forza Italia trovano l'appoggio da parte di tutto il partito a livello nazionale, a livello locale, a livello regionale perché appunto il partito investe su questi giovani formando la futura classe dirigente locale per i nostri territori. Un movimento di giovani che è appunto in movimento? Certo, sempre in movimento che non si ferma mai, infatti questi ragazzi l'hanno dimostrato, sono veramente instancabili e a loro oggi festeggiamo appunto questo compleanno come l'abbiamo simpaticamente ribattezzato, questo primo anno di coordinamento cittadino e quindi hanno dimostrato di saper fare bene, di saper fare tanto. Beh, credo Gabriele che potete dire di essere soddisfatti. Sì, sicuramente, è stato davvero un evento che ha dato la possibilità di aprirci ai cittadini di Crotoni presenti qui oggi ad ERA 2017. È stato anche molto bello avere i saluti della coordinatrice nazionale a Negazio Calabria e anche i saluti del Presidente Berlusconi che si è congratulato con quelli che sono state le nostre iniziative, il nostro percorso durante questo anno. Devo dire che è stata davvero una grande soddisfazione anche per tutti i ragazzi che hanno avuto anche l'opportunità di potersi esprimere, lanciare le proprie idee e confrontarsi appunto con il pubblico che ha partecipato anche attivamente a questa giornata. Senz'altro è un traguardo, ma allo stesso tempo è un punto di partenza per il domani, per questo gruppo di ragazzi e per questa città. Cosa volete per questa città? Vogliamo più informazione, vogliamo trasmettere alla cittadinanza l'amore per questa città perché noi amiamo Crotoni e vogliamo che tutti amino Crotoni perché davvero è l'unico mezzo attraverso il quale possiamo risollevare questa città. Grazie a tutti.